I religiosi, cioè quindi quella classe clericale dell'epoca, i religiosi, gli esperti se vogliamo della religione, erano proprio quelli che non solo non accolsero il Signore ma addirittura persino lo contrastavano, cioè che può sembrare in alcuni casi, dice no ma non è possibile, ma come? Loro erano come dire i dottori della legge, gli scrivi, gli insegnanti, gli studiosi e la ti fa capire che non è lo studio ma è il cuore che conta, ecco questo vale per tanti che magari sanno anche tante cose della Bibbia ma poi non hanno un cuore aperto alla misericordia, all'amore di Dio eccetera. Dio dimora lì dove c'è un cuore aperto e mi misericordioso come il fariseo che si innalzava, invece quell'altro si batteva al petto e Gesù ha detto che quell'altro lì andò a casa giustificato, indi per cui il fariseo che invece lui diceva di fare tutte le cose perfette che poi parliamone, religiose eccetera, altro che dice che non andò a casa giustificato, quindi questo è un insediamento grande per noi, la semplicità del messaggio del Vangelo, gloria a Dio, gloria a Gesù.